Musica Ben trovati telespettatori di TV Sera appuntamento con le previsioni meteorologiche per domenica 6 novembre. Dall'osservazione della mappa del tempo medio possiamo notare che l'Italia sarà interessata ad una perturbazione piuttosto intensa. In particolar modo piogge e rovesci sono previste sulla Sardegna, lungo le regioni tirreniche e sulle regioni di nord-est, mentre tempo più stabile interesserà in particolar modo le regioni di nord-ovest e il sud Italia. La ventilazione risulterà molto forte dai quadranti occidentali, in particolar modo lungo i crinali e le zone montuose, e i mari risulteranno generalmente mossi o molto mossi. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino avremo condizioni di tempo stabile, in particolar modo lungo la fascia costiera dove i cieli si presenteranno nuvolosi, mentre nelle zone interne dell'Aquilano avremo rovesci e pioggia anche di moderata e localmente forte intensità. Nel corso del pomeriggio e della sera le condizioni meteorologiche non vedranno variazioni, con il tempo che continuerà a risultare instabile nelle zone interne e più stabile lungo le zone costiere. Tuttavia non escludiamo che deboli rovesci possano sconfinare nelle zone di costa. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento. Grazie per la visione!